Dopo la Biennale di Venezia e dopo l'apertura della mostra in piazza Municipio a Napoli, approda Cervinara a Lui Ruo Wang, nell'ambito del progetto di più ampio respiro, la Corona di Caudio, che raggruppa vari comuni della Valle Caudina che ne hanno sviluppato i contenuti ed ottenuto la promozione della Regione Campania, la cui direzione artistica è stata affidata a Matteo Lorenzelli della Galleria Lorenzelli Arte. Lui Ruo Wang contribuirà con la propria arte alla promozione del territorio di Cervinara e alla valorizzazione delle tradizioni della Valle Caudina. Nell'occasione il comune di Cervinara, idamente alla Prologa Angelo Reni, all'istituto omnicomprensivo De Santis, presso la Sala della Legalità al Palacaudium, ha presentato nell'ambito di un convegno l'artista cinese agli studenti e alla cittadinanza tutta. Poi è seguita l'inaugurazione dell'opera in villa comunale. Lui Ruo Wang è noto in Italia per World's Coming, un'installazione dal potente effetto scenografico allestita nel padiglione San Marino alla Biennale di Venezia del 2015, che rappresentava un gruppo di lupi dalle fauci inzanguinate, mentre si avventa minaccioso contro un guerriero che li tiene a bada. Proprio la figura di questo animale, così cara all'artista cinese, è il soggetto e la sua installazione per Cervinara, una scultura che raffigura un lupo, il lupo di Cervinara, che esposta provvisoriamente in villa comunale sarà poi collocata nella frazione di Offredo, una scelta coraggiosa e carica di significato. Anche il luogo destinato all'installazione dell'opera, la frazione di Offredo, è altrettanto simbolico per la memoria collettiva locale. La frazione infatti fu colpita e in parte distrutta da un evento franuso che si verificò nel dicembre 1999, in seguito al quale furono sei vittime e diversi feriti. Il lupo sarà posto lì, a memoria dei cittadini che perso la vita nella tragedia e come simbolo di forze rinasce del territorio, che ha deciso di ripartire, rinsaldando il rapporto alla sua ricchezza più grande, il rispetto per la natura e l'amore per la montagna. Oggi inauguriamo la scultura di Ruang. È un percorso che noi abbiamo intrapreso già con la chiave di Milot di valorizzare il territorio attraverso la realizzazione di sculture contemporanee. Questa opera sarà messa in villa comunale fino al completamento dei lavori in località di Offredo dove avrà la sua collocazione definitiva. Penso che è un discorso che debba essere portato avanti nel tempo. ci siamo immessi in una rete dal gallerista Lorenzelli allo stesso Alfred Milot al generale Bianco ci siamo incamminati in un discorso di crescita culturale del nostro paese e spero tanto che questo venga portato avanti anche negli anni futuri. È stato molto ornato per essere qui perché ha visto questa sua scultura è stata appoggiata da una simbologia della città ha sentito una grande promozione che avete fatto per lui.